Salve a tutti! Come ha detto Niki, sono il guardiano notturno del Museo di Storia Naturale e voglio dirvi una cosa, è lì che la storia prende vita. Quanti di voi sono stati al museo? Io, c'è! Noi, c'è! Niki, devi tornare a casa, sei pronto? No! In sella! In sella! In sella! In sella! ?"